Oroscopo del giorno. Domenica, 13 agosto, 2023. Ariete. Amore. Questa domenica di metà mese, sarà caratterizzata da qualche piccolo intoppo nei rapporti, nulla che non si possa risolvere, con pazienza e buona comunicazione. I single potrebbero fare delle conoscenze nuove. Lavoro. Se lavorerete oggi, potrebbero esserci delle occasioni professionali nuove, ed interessanti. Toro. Amore. La giornata potrebbe avere un bel filo di romanticismo. Una domenica speciale per chi è in coppia, ma anche per nonno e ancora. Lavoro. Riposatevi se siete liberi da impegni di lavoro. Chi invece sarà in ufficio, metterà in campo tutta la sua determinazione. Gemelli. Amore. Occhio alla giornata del mese, in quanto con il vostro partner potrebbero esserci dei problemi, una vera e propria fase complicata. Non andrà troppo meglio per i cuori liberi da impegni sentimentali. Lavoro. Una domenica positiva, per chi la trascorrerà sul posto di lavoro. Cancro. Amore. I rapporti personali proseguiranno molto bene, ma occhio ad alcune relazioni. Con il partner potrebbe esserci infatti qualche piccolo intoppo da dover affrontare. Lavoro. Domenica un po' è instabile per chi dovrà lavorare. Vi porterete avanti un po' di pensieri che vi destabilizzeranno. Leone. Amore. Chi è impegnato in coppia, avrà un giorno sereno, senza troppe sorprese o cambiamenti. I singoli invece, potrebbero avere poche occasioni per avere delle conoscenze nuove. Lavoro. Buone notizie per il lavoro, che andranno ad incoraggiare gli impiegati domenicali. Vergine. Amore. Gli innamorati avranno una bellissima giornata, in cui si potrebbero fare persino delle proposte matrimoniali. Abbastanza buona la domenica, anche per chi è ancora single. Lavoro. Se lavorerete oggi, dovrete essere pronti ad accogliere tutte le nuove occasioni professionali che potrebbero presentarsi. bilancia. Amore. Questa giornata sarò un po' particolare, perché per alcune coppie potrebbe esserci un problema. Un equilibrio quasi assente, che farà soffrire le coppie. Nemmeno per i single sarà un giorno troppo intenso. Lavoro. Se avrete la domenica libera tutto ok. Chi ha tanto lavoro, invece, potrebbe essere un po' sopraffatto. Scorpione. Amore. Le dinamiche dei rapporti sentimentali potrebbero portarvi dubbi, paure, e conseguente riflessione. Dovrete prendervi un attimo per capire cosa fare. I single invece, potrebbero fare degli incontri nuovi. Lavoro. Tutto tranquillo, per chi durante questa giornata dovrà lavorare. Difficilmente ci saranno problemi ed intoppi. Sagittario. Amore. Questa nuova giornata di agosto sarà tranquilla, anche se i sentimenti non saranno i protagonisti. Chi è single, avrà la giusta occasione per fare conoscenze nuove ed interessanti. Lavoro. Potrebbe essere un giorno soddisfacente per voi. Potrebbero arrivare notizie molto piacevoli. Capricorno. Amore. Questa sarà una domenica, in cui sicuramente potrete fare nuove conoscenze, e godervi una bella vita sociale. La giornata sarà abbastanza buona, anche per chi è già impegnato in una storia d'amore. Lavoro. Nonostante la domenica, sarà importante non abbandonare le occasioni che potrebbero presentarsi quest'oggi. Acquario. Amore. Potrebbe essere un giorno particolare, di alti e bassi per chi è impegnato in coppia, mentre chi è single potrebbe avere qualche difficoltà nelle nuove conoscenze. Difficilmente ci saranno dei momenti di grande romanticismo, e ancor più difficilmente ci si innamorerà. Lavoro. Se lavorerete questa domenica di agosto, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Sarà una ottima giornata. Pesci. Amore. Per oggi, con il partner potrebbe essere una giornata non troppo piacevole, qualche piccolo screzio potrebbe rovinarvi la domenica estiva. Un poll di attenzione in più vi servirà nei rapporti personali. Lavoro. Stelle in buona posizione per il lavoro. Potrebbe essere una giornata di soddisfazioni per chi non sarà libero. Sfruttate al meglio le occasioni che si presenteranno. è un'altra domenica. Grazie a tutti.